Anche se sono stati riconosciuti maggiori risarcimento, tuttavia la giustizia italiana continua a mostrare il braccino corto, così l'avvocato Giuseppe Nicosia che difende i parenti di alcune vittime della strage di San Basilio a Vittoria. Unitamente alla soddisfazione per l'esito positivo degli appelli, continua Nicosia, non si può non avanzare qualche considerazione critica sulla misura e sulle argomentazioni di una giustizia arida e un po' tirchia per riconoscere l'entità del dolore delle vittime e che finisce con argute argomentazioni giuridiche a condannare i colpevoli di strage in forma minore di quanto meriterebbe la loro ferocia e il dolore che hanno arrecato, si è quindi finito per condannare gli autori a somme inferiori ai massimi di circa il 20%. Nicosia si chiede dunque il perché di questo sconto e cosa bisogna subire di più feroce di quello che hanno subito le vittime di questa strage per aspirare ad ottenere il massimo previsto dalla legge e dalla giurisprudenza. Ecco perché, conclude Nicosia, nonostante il largo successo professionale degli appelli proposti in favore di queste persone, non si riesce ad essere pienamente soddisfatti di una giustizia che stenta a mostrare un volto più umano, avare e con tanta gente che ha sofferto ed estremamente garantista con gli autori delle cili.